Voglio dirlo a tutti coloro che ci seguono, è difficile dirlo, ma oggi io e tanti altri colleghi e amici qui presenti lasciamo il Movimento 5 Stelle, lasciamo quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento. Vi auguro con grande affetto e franchezza di raggiungere gli stessi risultati che abbiamo raggiunto insieme in questi anni e l'augurio che faccio a tutti quanti voi.